Allora, Assessore, ci incontriamo adesso per parlare di cinema. Sono tanti gli strumenti che si possono utilizzare, tra questi il Tax Credit. Il Tax Credit è sicuramente una delle vie che vogliamo percorrere, vogliamo rendere il cinema soprattutto centrale per quanto riguarda l'attività culturale e quindi iniziare a lavorare anche su uno spazio multiculturale tra quella che è l'attività dei teatri, l'attività del film, l'attività della film commission. È un aspetto secondo me centrale di quella che è l'attività del mio assessorato, quindi fare in modo che la Sicilia diventi una delle migliori regioni d'Italia dove venire a girare. Allora, ci si riunisce nuovamente a Palermo per parlare di misure che possono essere importanti per lo sviluppo del settore cinema. Tanto queste misure sono già in atto, quindi quello che stiamo facendo è in realtà cercare di affinarle. C'è una quota nazionale, io mi auguro che ci sia una quota regionale. Essendoci tanti territori e tanti prodotti da promuovere, che ci sia una diffusione di questo strumento proprio fra le aziende siciliane e che ci sia la consapevolezza che quando si fa product placement in Sicilia debba essere fatto fortemente sui prodotti siciliani e non solo su quelli nazionali. Allora Alessandro, ci sono nuovi strumenti per dare sostegno al cinema in Sicilia? Il cinema in Sicilia è naturalmente un prodotto culturale di forte spessore. C'è un parterre di professionalità con grandi competenze che vanno valorizzate e vanno aiutate a crescere. Gli strumenti di sostegno sono naturalmente quelli tradizionali. Adesso bisogna essere in grado di aprirsi anche all'interazione con i privati. E' proprio questo di cui si parla oggi, cioè le risorse del tax credit, del product placement, tutti i meccanismi di defiscalizzazione e detassazione che possono stimolare gli investitori privati a scommettere nella partecipazione e nell'investimento sul prodotto audiovisivo. Allora, onorevole Trizzino, oggi si parla di cinematografia e si discute di questi strumenti che dovrebbero essere molto importanti e strategici per rilanciare un comparto che potrebbe produrre tante economie in Sicilia che molte volte viene un po' sottovalutato. Noi siamo qui, abbiamo organizzato questo convegno per parlare con i stakeholders, cioè per avere idee per come poter normare un'attività che ha bisogno di essere sviluppata, soprattutto perché porta turismo, porta lavoro. Quando si parla di cinema non si parla soltanto di un qualcosa che ha a che fare con la cultura, si parla di un'industria vera e propria, un'industria in grado di attivare indotti innumerevoli, con l'utilizzo di maestranze che vanno dagli attrezzisti, scenografi, disegnatori. Per cui oggi venire qui a ascoltare quello di cui si sta discutendo all'interno di questo convegno, credo sia importante per chi come me ha l'obbligo di recepire le diverse istanze e poterle trasformare poi in disegni di legge, spero poi approvate quindi leggi, tali da consentire un utilizzo di somme e finalizzarle nel giusto modo per evitare che si disperdano in rivoli inutili o come la storia più recente ci insegna in qualcosa che non ha funzionato. Tata Brand è l'azienda di Barbara Tabita. Facciamo un management cine tv, marketing del cinema, quindi product placement, brand content, format televisivi. In un momento di crisi come questo ci vuole un aiuto semplice per il reparto culturale, il cinema e cultura, è un aiuto anche per le aziende e con il tax credit, il product placement c'è un modo anche di comunicare, oltre che di detassarsi, di comunicare il proprio territorio, le proprie marche e le proprie aziende. Mi piace quello che faccio, lo faccio con grande passione e con grande professionalità, soprattutto anche quello di avere un'agenzia di marketing che si occupa di product placement, la dimensione migliore di vent'anni di lavoro passati sui sette. Quando vado a posizionare un prodotto in un film e conosco bene il prodotto filmico, gli sceneggiatori, gli autori e non mi perdo nei meandri di un mestiere che non conosco, anzi tutt'altro, cioè pane per i miei denti perché lo faccio da sempre. Senti ma è vero che lavorare molto mantiene magri? Certo mantiene magri, non hai tempo di mangiare, è che la televisione ingrasse, infatti quando mi guardo mi fai signora ma lei è chiuscica? Sì, la televisione ingrasse. In grassa, ci frega, ma il cinema no. Il cinema no, perché non hai tempo. Tira su come il tax credit. Tira su. Il cinema no, perché non hai tempo.